Allora la mia impressione su quello che sta succedendo in questi meravigliosi due giorni mi piace molto vedere tutta questa agitazione intorno a queste sorgenti di cambiamento personalmente me la sto vivendo con grande emozione perché vedo Sardex dentro tutta questa cosa vedo quella che oggi Luigi Cocco ha definito la Sardex Generation e la vedo davvero che Sardex dentro alla Sardex Generation e tutte queste realtà che le gravitano attorno vedo degli amici sul palco vedo dei progetti che magari ho visto nascere adesso li vedo concreti li vedo prendere forma e mi emoziona tantissimo questa mattina in particolar modo vedere vedere EIA TV vedere i noche sono tutte realtà che io ho visto così nascere fatte da amici e mi sta emozionando tantissimo credo che sia un grande evento che dia un contributo grandissimo all'innovazione e allo sviluppo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti